Fino al 1800 il Cambriano precedeva il Siluriano, poi nel 1879 Charles Lapworth capì che tra i due si trovava un'altra fase. Gli oceani e le terre emerse si raffreddarono, apparvero basti giacimenti di petrolio e gas, si verificò anche una nuova esplosione della biodiversità sottomarina. Per questo motivo era essenziale differenziarla dalle altre due. Nella scala temporale geologica l'Ordoviciano si colloca tra i meno 485 e i meno 443 milioni di anni. La Baltica e la Laurenzia si scontrano. Verso la fine di questo periodo il Gondwana era vicino al polo e in gran parte coperto da ghiacciai. A questo punto della storia dei nostri oceani...